La Coldiretti Sardegna comunica che è stata prorogata di un mese la scadenza per il pagamento della quarta rata dei contributi previdenziali per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli. Il termine utile è quindi stato spostato dal 16 gennaio al 16 febbraio 2021. La misura richiesta dalla stessa Coldiretti è contenuta nel decreto 1000 proroghe. Potranno beneficiarne gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni già beneficiari dell'esonero previsto dalla legge 176 del 18 dicembre 2020. Per tutte le informazioni e la procedura di proroga ci si può rivolgere agli uffici EPACA, l'ente di patrocina e assistenza ai cittadini e all'agricoltura della Coldiretti.